Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube, siamo quasi 127.000 iscritti, ogni giorno vi state iscrivendo a centinaia, per cui grazie, continuate a farlo, e bentornati anche sulla pagina Facebook. Ricordate quando durante il governo Draghi io dicevo, occhio che la Meloni fa opposizione strumentale, elettorale più che sostanziale, oppure durante l'ultima campagna elettorale io sostenevo che la Meloni fosse più draghiana di Draghi, un Draghi sotto copertura, e sostenevo anche che parlare troppo di fascismo fosse una sorta di distrazione di masse che quasi convenisse alla stessa Meloni parlare più del fascismo, dei busti di Mussolini, a casa la russa, piuttosto delle schifezze fatte dal governo Berlusconi, di cui faceva parte sia la russa che la Meloni, o piuttosto anche alle schifezze che ero convinto che avrebbe fatto, seguendo in maniera totale, proprio spalmata, la linea Nato, quindi barra Draghi, il quale a sua volta ha sempre esaudito gli ordini di Washington. Ecco, oggi ne abbiamo un'ulteriore conferma plastica, perché la norma sul posso, quella che sostanzialmente permetteva ai commercianti di non farsi pagare tramite moneta elettronica fino ai 60 euro, e di cui quanto se ne è discusso, perché il governo l'ha portata come una difesa del contante, che per certi versi, io sto leggendo adesso il libro del professor Beppe Scienza, che collabora anche con il Fatto Quotidiano, sulla difesa del contante, ci sono delle cose interessanti, ma al di là di questo l'hanno descritta come la norma rivoluzionaria, creando come sempre la divisione tra una parte a favore, una parte contro, un po' come il reddito di cittadinanza, il tutto per evitare di parlare di questioni sostanziali, alle quali arriverò. Allora, sia chiaro che oggi il governo italiano non abbia una lira fondamentalmente per portare avanti delle politiche, è vero, però è la Meloni che da parlamentare, ex ministro della Repubblica, banalmente votò il pareggio di bilancio in Costituzione su diktat dell'Europa, di quell'Europa che lei ha descritto anche recentemente, prima di diventare presidente del Consiglio, come una banda di usurai che ha sempre attaccato, parlando di sovranismo, di interesse generale, criticando anche aspramente il governo Monti, o magari una serie di misure, la guerra in Libia, ripeto, che lei ha avallato, e il governo Monti fondamentalmente che al quale lei diede la fiducia. Tra l'altro ho sentito recentemente Monti elogiare la Meloni definendola una che non sta sbagliando, che è perfetta nel suo rapporto con l'Unione Europea. È stata lei, quindi riconosco che non vi sono soldi, riconosco anche che i soldi si potrebbero anche fare da quei prossimi anni, approvando una sera legge sul conflitto di interessi o continuando nel inasprire il reato di corruzione o cercando di dotare polizia, carabinieri, finanza e magistratura di strumenti sempre più innovativi per smantellare il cancro della corruzione. Invece quello che sta smantellando è l'anticorruzione, questo governo, con una serie di normette indecenti e anche con una comunicazione giornaliera che tende più a colpevolizzare chi fa le indagini piuttosto che i ladri e coloro che rubano, tra l'altro in un momento in cui lo stesso Parlamento Europeo viene travolto dal più grande scandalo di corruzione che l'abbia appunto mai coinvolto. E tra l'altro non ci sono i soldi ma il governo Meloni, che con la legge finanziaria stabilisce nuovamente la messa in funzione della stretto S.P.A., la società che dovrebbe costruire il ponte sullo stretto definito da Sgarbi, un miraggio di Salvini, lo stesso ponte che ci ha costato inchiesta della Gabanelli per il Corriere della Sera 1,3 miliardi di euro, un ponte inesistente, ma in studio di fattibilità, pagamento del personale di questa società, una serie di attività che sono state fatte appunto per la costruzione di un ponte che non esiste e che ci ha costato ad oggi un miliardo e 300 milioni di euro. È lei oltretutto che in questo momento storico in cui anche Kissinger, lo stesso Boris Johnson, iniziano più Kissinger comunque a parlare di possibili negoziati in Ucraina che possano partire fondamentalmente da riconoscimento, tra virgolette o quantomeno il ritiro di Mosca all'interno dei confini de facto del 2014 con annesso il controllo della Crimea. Ricorderete anche che io sono ormai quasi un anno che dico guardate che partire dal riconoscimento della Crimea è il modo migliore per poter intavolare dei negoziati disponibili al riconoscimento della Crimea russa in cambio di un immediato cessato il fuoco di un tavolo negoziare sul Donbass, sono frasi che io così avrò ripetuto decine e decine di volte. Ecco comunque nonostante la Meloni abbia ovviamente una serie di difficoltà non causate da lei, è evidente che il modo in cui si sta comportando è il modo di un gentilone, si sta comportando come un gentilone qualsiasi. Manovra gentiloniana più che fascista e fondamentalmente una retromarcia totale su questa misura del POS che avrebbe dovuto rivoluzionare la vita dei commercianti. Tra l'altro ho letto una dichiarazione della Meloni, se non c'è altro modo appunto di intervenire sul POS ci inventeremo un modo per non far pagare ai commercianti le commissioni bancari per piccoli pagamenti. Che significa? Cioè o garantisce al commerciante la possibilità di rifiutare, non entro nel merito, attenzione, di rifiutare il pagamento con monete elettroniche a fine 60 euro, cosa che ci hanno venduto come rivoluzionari e hanno dovuto rimangiarsi questa proposta appunto perché si sono arrabbiati in Europa. Oppure come fai? Traverso magari interventi fiscali? Quindi che significa? Che queste commissioni, che comunque scontro le quali non si vuole intervenire perché la stessa Meloni a non volersi scontrare con le banche sostenendo che intervenire sulle commissioni possa anche essere anticostituzionale, le pagheremo noi. Cioè fondamentalmente per non farle pagare ai commercianti, e lo capisco, sia chiaro lo capisco, le pagherà lo Stato. Perché la Meloni non riesce né a imporsi in Unione Europea, posto che magari io non sono d'accordo con quella strategia, ma non riesce neanche a imporsi con il sistema bancario italiano, perché a detta sua è incostituzionale far pagare le commissioni bancarie alle banche stesse. Ripeto, un Draghi sotto copertura. La Meloni in questo si sta dimostrando un Draghi sotto copertura, ma non soltanto, questo è un esempio, sulle questioni principali. Ripeto, è la Meloni che pochi giorni fa ha detto in Parlamento che le sanzioni sono molto dure per noi ma stanno funzionando. Ma funzionando per fare cosa? Andatevi a vedere articoli ben scritti su quanto i russi stiano vendendo petrolio agli indiani. È aumentata la vendita di petrolio russo all'India nell'ultimo anno di 14 volte e poi a nostra volta noi europei compriamo dall'India i derivati prodotti in India realizzati grazie al petrolio russo, dei geni assoluti. Questo è un modo fondamentalmente anche per i russi in un certo senso di aggirare le sanzioni. Tra l'altro sempre la Meloni anche con il sostegno del Partito Democratico sta continuando la stessa strategia fallimentare rispetto alla guerra in Ucraina. Cioè mandare sempre più armi e nuovi pacchetti di armi perché non vuole inimicarsi la Nato. I padroni del mondo, coloro che vengono descritti anche dalla Meloni come responsabili della nostra sicurezza e della nostra difesa, su questo vi sento totalmente. Mi è arrivato un libro che si chiama Le Guerri Legali della Nato e lo stiamo iniziando a leggere. Preoccupante ricordarsi quante manovre di destabilizzazione sono state fatte negli ultimi decenni dall'Allianza Atlantica. Ma sempre poi per ricordarla, Meloni da questo punto di vista va insieme al Partito Democratico sulla stessa identica linea di Draghi, lo stesso PD che agitava la fantomatica agenda Draghi durante la campagna attorale, lo stesso PD che potrebbe finire nelle mani Eli Schlein, la quale pochi giorni fa ha votato contro la risoluzione del Movimento 5 Stelle che tardivamente si è reso conto di aver commesso delle sciocchezze durante il governo Draghi rispetto all'invio delle armi in Ucraina e rispetto appunto all'aver avallato tutta la strategia draghiana rispetto alla guerra in Ucraina. Comunque il movimento che tardivamente si è ravveduto ha portato in aula una risoluzione contro l'invio di armi a Kiev e la Schlein, cioè la donna del nuovo Partito Democratico ha votato contro, seguendo in maniera totale la linea dei Draghi, della Nato, della Meloni, del governo del centrodestra, di Letta, di Di Maio e compagnia cantante. Questo è quanto, quindi occhio a farci un po' abbindolare o distrarre dalla questione fascismo, dalla nostalgia che senz'altro hanno alcuni esponenti di Fratelli d'Italia rispetto al regime fascista, occhio anche a farci distrarre da giornate e giornate di disquisizioni televisive o sui giornali, sul POS 30, 40, 60 euro, quando? Su sanzioni, su armi, su strategie anche, come dire, di rapporti con l'Europa, no? Per non voler rompere con l'Europa si accetta, fondamentalmente si accettano i diktat di gentiloni, cioè la Meloni, la sedicente sovranista che si mette sull'attenti non soltanto se parla la Nato o parla Washington, ma se parla gentiloni in Europa e dice questa roba qui del POS 60 euro in su va in contrasto con gli obiettivi del PNRR e, sempre per occupare degli spazi sui giornali, esponenti falchi meloniani si incavolano e non è che se la prendono con loro stessi o su quanto abbiano in poche settimane tradito una serie di cose che hanno detto negli ultimi anni, ma se la prendono con il governo Draghi, dicendo è colpa di Draghi che ci ha lasciato questo PNRR, noi abbiamo le mani legate, non possiamo fare nulla, però con chi governa Fratelli d'Italia con la Lega e con Forza Italia che sono stati colonne portanti insieme al PD e purtroppo drammaticamente al Movimento 5 Stelle del governo Draghi e hanno avallato tutto quel che ha fatto Draghi, compreso il piano il PNRR, che oggi criticano quelli di Fratelli d'Italia, sostenendo che fondamentalmente sia responsabile delle loro mani legate, dell'impossibilità da parte appunto del governo di fare politiche come vogliono fare e dato che non riescono a prendersela con i corrotti sul serio, anzi smantellano pezzi della legge anticorruzione, non riescono a prendersela con questa Europa non soltanto schiava ovviamente della tecnocrazia finanziaria ma anche degli americani, oggi l'Unione Europea sembra colonia degli americani, la stessa Germania insomma che negli ultimi anni sotto la Merkel ha provato un po' ad affrancarsi oggi tace e accetta qualsiasi diktat, ovviamente non avendo neanche le capacità evidentemente il coraggio di imporsi con gli alleati americani e dire occhio che voi state facendo politiche protezioniste, le sanzioni stanno favorendo noi, stanno andando contro l'interesse europeo, il famoso no stream e i sabotaggi fatti ai no stream dei quali non si parla più, non sono stati un attacco alla Russia, sono stati un attacco all'Unione Europea, agli interessi soprattutto tedeschi e anche a nostra volta, diciamo anche italiani perché siamo estremamente legati noi italiani e le imprese italiane alla Germania, non riuscendo se la prendere in nessun modo con questi poteri forti davvero esistenti, se la prende con i percettori del reddito di cittadinanza e per accimolare 200 milioni di euro in più, che sono circa più o meno la stessa identica cifra che costa ogni invio di armi a Kiev, ogni pacchetto di invio di armi a Kiev, ha deciso bene appunto di cancellare il reddito di cittadinanza ai famosi, come li chiama lei, gli occupabili, che poi sono anche persone spesso e volentieri che lavorano e che percepiscono comunque un'integrazione grazie al reddito di cittadinanza di circa 200 euro, comunque di togliere il reddito di cittadinanza non più tra otto mesi ma tra sette mesi per accimolare dei micragnosi, se parliamo del bilancio di uno Stato che fa parte del G7, 200 milioni di euro senza intervenire sui costi della politica, anzi ci sono pezzi della politica tra cui il Partito Democratico che pensa di istituire nuovamente un corposo finanziamento pubblico ai partiti, questo è il PD e poi il Movimento 5 Stelle ci si allea seppur territorialmente, ma ancora robe inspiegabili, non aggredisce appunto i conflitti di interesse che oggi sono correlati al grande sistema corruttivo, non aggredisce la corruzione, aumenta le spese militari in un momento drammatico, ci sono dati sconvolgenti sulle nuove corsi a riarmo che ci sono state appunto nell'ultimo anno, ma se la prende con i percettori del reddito di cittadinanza, violando dunque vari articoli della Costituzione sui quali lei ha giurato, l'articolo 11 perché, ripeto ancora una volta, pensare di risolvere le controversie internazionali mandando più armi ad un Paese che comunque sulla carta non appartiene né alla Nato e né all'Unione Europea è profondamente anticostituzionale. Questo è il governo Meloni. Un governo Draghi mascherato, la Meloni si sta comportando appunto come un Draghi sotto copertura, lo fa per prendere tempo, per avere un altro tempo per intervenire, lo fa per non nimicarsi Bruxelles, Francoforte, Washington, lo fa perché vuole stare più tempo la prima donna Presidente del Consiglio in quel posto di potere, spera nei prossimi mesi magari attraverso questo piano di infrastrutture, in primis con la costruzione prosiani del Ponte sullo Stretto, seguendo le linee salviniane di una totale deregulation di fatto rispetto al sistema degli appalti, poi voglio vedere lì i sistemi futuri corruttivi, ma evidentemente si vuole per forza costruire, tenendo presente che costruire senza controlli e lasciando, allargando eccessivamente le maglie nel nostro paese hanno anche prodotto tragedie a danno dei cittadini che sono morti su ponti, sono morti in case degli studenti venute giù anche perché costruite male, sono morti un po' ovunque appunto, molte morti in Italia sono legate al modo in cui si è costruito, ai controlli che non ci sono stati e al sistema partitocratico corruttivo che purtroppo ha rappresentato spesso e volentieri, non sempre, spesso e volentieri i lavori pubblici in Italia. La Meloni, questo è per adesso, poi io mi auguro perché sono cittadino italiano, riconosco ancora una volta che stia governando da poco, ma quello che vediamo quotidianamente non è un governo sovranista, non è un governo fascista, è un governo draghiano. Grazie a tutti e condividete.